Musica Rieccoci in diretta, è qui con noi Viola Carofalo, buonasera Viola Carofalo, portavoce di Potere al Popolo, Lissa che ovviamente anche lei concorre a queste elezioni del 4 di marzo Gli adeguamenti al costo della vita sono necessari, bisogna trovare una formula Alcune formule saranno anche un po' vintage, ma sono formule di tempi in cui si viveva un po' meglio da adesso Io non sono una passatista, non penso come dire che prima si stava sempre meglio da adesso Penso che chi sta male è sempre stato male, ma penso anche che la povertà che vediamo adesso e l'afflizione che vediamo adesso non si è mai vista Non solo perché lo dicono le statistiche, che a volte come dire mischiano le carte perché lo sappiamo tutti I numeri si possono leggere in tanti modi Io dico alla gente che sta a casa, alla gente che vuole riflettere su questa cosa Guardatevi intorno, come vi sembra che sia la vostra vita, come vi sembra che sia la vita dei vostri figli, è migliore o peggiore? Io penso che la mia generazione è la generazione più disperata degli ultimi 100 anni in Italia Con tutto che ci sono stati belle tragedie e bei problemi, perché è la prima generazione che non ha nessuna speranza di vivere meglio dei suoi genitori, ma neanche di vivere allo stesso modo O noi affrontiamo questo problema, che passa anche per l'adeguamento salariale, oltre che evidentemente per l'estensione dei diritti Oppure siamo destinati semplicemente a rassegnarci a campare sempre peggio Senta, siamo proprio in chiusura, mancano poco più di 40 secondi Un motto, un suo motto per chiudere questa nostra bella chiacchierata Lo dicevo prima, facciamo tutto al contrario Quindi ripartiamo dai territori, ripartiamo dal basso, dai comitati, dalle associazioni e ripartiamo dalla politica Perché c'è una ventata di antipolitica Ripartiamo dalla solidarietà e quindi dall'antirazzismo Da smetterla con la guerra dai poveri e dalla politica Che è la cosa più bella del mondo quando è fatta bene, con onestà e compassione E cioè trasformare l'esistente, trasformare la propria vita e rispondere ai propri bisogni immediati Non ci facciamo imbrogliare da chi dice Ah no, la politica è la cosa più brutta e deteriore che c'è La politica è una cosa bellissima, ma fatta bene Grazie a tutti